Si rafforza il legame con Cuba nei dieci anni della missione interdiocesana Ligure. Il Vescovo di Santa Clara, dove operano i sacerdoti Fideidonum di Chiavari, Genova e Savona, in questi giorni è in visita nella nostra regione. Oggi è ospite della diocesi savonese, giovedì sera terrà una testimonianza in cattedrale a Chiavari durante la veglia missionaria. Venerdì 30 ottobre, nella sala Quadrivium di Genova, presiederà un convegno sulla missione. Monsignor Arturo Gonzales Amador, che lo scorso settembre ha vissuto la visita del Papa a Cuba, è appena rientrato da Roma, dove ha partecipato, in veste di padre sinodale, al Sinodo sulla Famiglia. Un momento di confronto che ha acceso la sensibilità sul tema, ha spiegato un'occasione di riflessione e anche di scoperta. Sento la necessità e l'urgenza di considerare la famiglia come un'opzione pastorale prioritaria. Già è così nel campo del piano pastorale della Chiesa Cubana. Però, uscendo dal sinodo, riscopro la famiglia come un valore ancora maggiore, al quale dedicare più tempo, più sforzo, più delicatezza e un maggior ascolto di chi ha bisogno di essere accompagnato di più. È questa l'esigenza che porto a casa dal sinodo per la mia diocesi. Il Vescovo di Santa Clara guarda la Cuba di oggi. La speranza è che le famiglie possano mantenersi unite e camminare insieme, traendo forza dalle proprie radici cristiane. I problemi sono ancora tanti. Certamente problemi di convivenza, difficoltà di spazio, di carattere economico. C'è la difficoltà di vivere sotto lo stesso tetto, che spesso è piccolo. O generazioni giovani, con bambini, che vivono insieme agli anziani. Una via di speranza per la famiglia cubana è l'attenzione alla terza età e l'accompagnamento delle nuove generazioni.